Il Partito Democratico di Sulmona si appresta alla riorganizzazione generale degli assetti. Lo farà con il Congresso, che verrà convocato nei prossimi mesi. Sulla tempistica si attendono disposizioni da Roma. L'orientamento è quello di arrivare al Congresso nazionale, celebrando prima quelli a livello comunale e provinciale, per poi tenere le primarie. Il Circolo Sulmonese dovrà provvedere alla sostituzione dei dimissionari. Andranno rinominati innanzitutto il Vice-Segretario e il Presidente dell'Assemblea, dopo le rinunce rispettivamente di Teresa Nannarone ed Andrea Catena. È stata intanto rinviata, presumibilmente di una settimana, la festa del tesseramento, che era prevista per venerdì prossimo, 27 settembre. Il posticipo è dovuto a motivazioni tecniche per la mancata disponibilità di alcuni alla manifestazione, che farà registrare la presenza di Giovanni Legnini, Stefania Pezzopane, Giovanni D'Amico e Luciano D'Alfonso. La campagna tesseramento intanto è in atto nella sede di Corso Video, che è aperta per l'occasione da lunedì al sabato, dalle 18 alle 20 e la domenica dalle 10 a mezzogiorno. Si prospettano rientri importanti nei Democrat. In una recente riunione ha partecipato anche l'ex sindaco Paolo Santarelli, insieme a Massimo Di Paolo e all'ex segretario cittadino Antonio Di Rienzo. Il loro reintegro non è stato ufficializzato, ma ci sarebbero buone possibilità di un ritorno a casa. Riguardo al Congresso, che dovrà eleggere i nuovi organismi, segretario compreso, si ricandiderà anche l'uscente Roberto Spinosa, forte del successo del centrosinistra alle recenti comunali. Intendo dare, afferma, la piena disponibilità, ed è per questo che mi ripresenterò per guidare ancora il partito. Grazie. Grazie. Grazie.